ho seguito una risonanza della colonna lombosacrale è stato facile salire sul letto perché il lettino si abbassa notevolmente ma anche una persona con qualche difficoltà è semplicissimo salire non c'è bisogno di scalini e di nessun appoggio si sale tranquillamente semplicemente non ci sono state difficoltà il letto è comodo sì non ci sono stati problemi la mia esperienza è stata positiva perché l'esame è durato poco non ci sono rumori non è stato necessario indossare una cuffia è stato semplice ho avuto possibilità di dialogare con il tecnico anche le bobine e i cuscini sono comodi e quindi mi sono quasi addormentato